Salve a tutti, in questo video voglio far vedere un piccolo script che mi ero scritto questo weekend per risolvere un problema che a me stava molto a cuore, cioè che era molto importante per me. Ora, qual è il problema? Io, diciamo, hosto delle risorse sul mio sito, il mio sito è leonardotamiano.xyz e ho vari documenti, ho vari noti, ho vari appunti che contengono dei link, dei link, diciamo, HTTPS. Bene, alcuni di questi link puntano a risorse che io stesso hosto, altri invece puntano risorse o state da altre parti, da terzi. Queste risorse puntate che puntano a terzi, certe volte funzionano, però poi magari col passare del tempo smettono di funzionare. Per esempio, ho questo file, che è un walkthrough di una macchina di HTTPS che è stato nel mio sito, contiene un link, alla fine, a questo script per fare un'exploitation. Bene, questo veniva hostato su GitHub, però poi mi sono accorto che questo non funzionava più e questo è qualcosa che mi dà molto fastidio, che vorrei evitare il più possibile. E quindi, piuttosto che manualmente controllarsi tutti i link, che diventano tanti e diventa veramente impraticabile come cosa, mi sono scritto uno script che genera il seguente file, brokenwareelse.txt. Ora, questo file che contiene? Contiene per ogni link non funzionante, contiene il link e il file, la lista in realtà dei file name, perché qui ce ne sono uno, ma poi se magari questo link appare in più file, qua ce ne sono più file, quindi la lista dei file name in cui quel link è contenuto. Per esempio, quello che ho fatto vedere prima era questo qui, era questo link contenuto in questo file, così lo posso aprire, diciamo, localmente, posso andare a vedere dove sta questo link, sta in GitHub, e appunto mi accorgo che non funziona effettivamente per controllare e lo posso cambiare. E quindi questo è il file generato dallo script, mentre lo script vero e proprio si chiama brokenwareelse ed è il seguente, che cercherò di discutere in questo video, per chi è interessato. Farò vedere un po' di Baesh in azione, che secondo me è il modo migliore di imparare un linguaggio quello di scriverci qualcosa di utile. E ovviamente se avete qualche suggerimento, qualche commento eccetera, fatemelo pure sapere nei commenti, così posso migliorarlo. E per il resto, spero sia interessante. Allora, per quanto riguarda le dipendenze, il mio script utilizza tre binari, diciamo, che sono PAP, scritto in Go, XML Starlet e Curl. PAP lo utilizzo per estrarre dal file HTML tutti i link di interesse. Quindi qua c'è la repo GitHub, poi lo metterò al link in descrizione. Per esempio in questo file io ho una serie di elementi, diciamo, una serie di, per esempio, A, HRF, eccetera, una serie di link. E con PAP li estraggo tutti con questa linea di codice in modo molto molto conveniente. E poi li processo. Quindi questo fa PAP, poi abbiamo XML Starlet, che invece lo utilizzo per fare l'anescaping dei caratteri HTML. Per esempio questo carattere, questo end hashtag 39, è, diciamo, codifica il carattere slapicetto. Ora io ho utilizzato questo binario per avere una traduzione più sicura, perché magari farlo manualmente mi sarei potuto missare qualche carattere e quindi certe volte non avrebbe funzionato. Ho detto, vabbè, sticavo, utilizziamo sto binario e via. Diciamo, questo vorrei evitarlo, chiaramente, però non mi andava di scrivere il codice extra, possiamo dire. Quindi ho avuto questo, diciamo, questo bilanciamento tra codice che ho scritto io e codice che ho utilizzato da altri. E poi ho utilizzato Curl, che, diciamo, Curl è molto molto famoso, molto utile, quindi secondo me è sempre meglio averlo installato. Quindi queste sono le tre dipendenze. Poi il resto, vabbè, sono comandi tipo sort, sed, grep, che solitamente si trovano già installati in un sistema, diciamo, Linux tradizionale. Dopodiché, continuando, andando a discutere un po' queste variabili globali, allora la datadir sarebbe la root directory che lui va ad analizzare. Cioè lui parte da questa root directory e si va ad analizzare ogni file in questa directory, quindi in modo ricorsivo, quindi dalla root andando nei fili, eccetera. Si prende ogni file HTML, estrae tutti i link, diciamo, in questo file e li processa. Quindi se noi vogliamo cambiare, ok, un'altra datadir, lui ovviamente cambia la root da cui inizia la sua esplorazione. La root URL, invece, perché? Perché certe risorse sono dei link locali, quindi io non menziono il dominio nel link, ma solamente do la patta relativa, possiamo dire. E quindi per controllare queste patte relative, devo ovviamente aggiungere il dominio, la root dell'URL. E dato che comunque il mio, questa è la root del mio, diciamo, del mio sito, ho messo questo. Quindi se magari uno inizia un sito con un altro, ovviamente, dominio, deve cambiare questo. Dopodiché l'example file in realtà non l'ho utilizzato, era per fare qualche esempio. E poi ho tre particolari file che questo script genera, che sono full URL file, partial e broken. Ora andiamo a vedere proprio dal vivo. Nel full URL list, che è il primo file che genera lo script, io che metto? Metto per ogni link, metto il link e il file in cui quel link si trovava. Quindi per esempio questo Leonardo Damiano post-mufory setup e metto il link, metto il file in cui quel link si trovava. E questo lo faccio per ogni, per ogni link. Quindi questo vuol dire che nel file index c'è il link a post crossword solver del mio sito. E quindi questo è il full. Questo è quello proprio la prima cosa che genero con pub, alla prima iterazione. Dopodiché io processo questo file per ottenere la partial list where else. Questa contiene essenzialmente ogni link distinto che appare nel file precedente una e una sola volta. Infatti come possiamo vedere io prima qui ho 200 righe e invece poi in questo file ne ho tipo 152. Perché? Perché io estraggo essenzialmente ogni link, però solo una volta. Mentre per esempio, che ne so, questo link magari appare più volte qui. Ora non so quante volte apparirà, in realtà appare una volta. Ma ci sono link che magari appaiono più volte, tipo questo qui. Questo qui appare più volte. E quindi questo link, anche se qui appare più volte, nell'altro file, nel partial, appare una volta sola. Se non andiamo a cercare, una volta sola. E quindi questi sono il full e il partial e poi c'è il broken. E il broken è l'ultimo, quello che genera in cui appare ogni link rotto e la lista dei file name in cui quel link viene utilizzato. Ora certe volte ho visto che mi ha dato un paio di volte qua metteva dei link che non erano veramente rotti, ma questo in realtà lo fa strano. Cioè non è proprio deterministico. Cioè lo è. Però ogni tanto appunto certe volte non mi ha funzionato quindi non garantisco che funzioni sempre, però logicamente ci dovrebbe stare. Però il fatto è che ovviamente se lì qua ti dà, dato che qui sono molti meno link, controllare non costa nulla. Cioè ovviamente poi uno che fa, uno semplicemente controlla che questo link effettivamente non ci sta, tipo in questo caso, e se è così poi lo va a cambiare. Ma questo ovviamente riduce il lavoro di un sacco, perché non devo più andare a vedere tutti e tutti i file ma solamente questi filtrati dallo script. E quindi questi sono i tre script e poi qua ci sono diciamo le patte vari binari, che vabbè sono pap, xml, starlet, poi magari qua ci posso pure mettere curl, adesso non l'ho messo perché non mi andava. E quindi queste sono le variabili globali. Dopodiché il corpo principale dello script funziona in questo modo, nella prima, vabbè, in queste istruzioni io verifico che le dipendenze sono soddisfatte. In questo caso io controllo solo per pap, xml, starlet perché solitamente curl ci sta, però qui si dovrebbe anche aggiungere il controllo per curl. Quindi passando al corpo, diciamo, al corpo centrale dello script, che è questa funzione main che viene chiamata qui alla fine, quindi lui chiama la main e quindi fa questo qui essenzialmente. La prima riga controlla le dipendenze. Io qui controllo solamente per pap, xml, starlet, ma il controllo ovviamente può essere stesso anche per curl nello stesso modo. Cioè io che cosa faccio? Controllo che il patte è un file e quindi diciamo controllo in questo caso. Qui sto usando l'espansione della shell per andermi a prendere direttamente la patte utilizzando il comando which, perché se faccio which xml lui mi tira fuori la patte e io così la inserisco nella verba xml, starlet, in modo molto più veloce. Quindi poi nel main fa primo controllo requirements e poi chiama due funzioni, che è la prima è generate urls file e la seconda è generate broken urls file. Ora la prima funzione genera in realtà due file, che sono la full urls list, che è la lista che vi ho fatto vedere prima, che era questa, che per ogni link contiene il file name in cui quel link diciamo è presente, e la partial, che contiene praticamente tutti i link una volta sola in modo distinto, univoco. E poi c'è l'altra funzione che è generate broken urls files, che invece genera essenzialmente l'output finale, che è quello che voglio, cioè il file con tutti i link rotti. Ora andiamo a vedere la generate urls file. Quindi per generare questa lista di urls, lui che fa, lui entra qui, lui elimina i file che erano stati generati nella run precedente, poi fa un pushd, un pushd e poi fa un popd alla fine. Ora, essenzialmente pushd è un meccanismo molto utile per cambiare i directory e tornare a quella in cui mi trovavo quando l'ho cambiata in modo veloce. Cioè che vuol dire? Io per esempio adesso sto nella mia home, home.leo. Adesso posso fare un pushd in, vado in repos, poi faccio, che ne so, ppa. A questo punto io ho cambiato directory, io sto in repos ppa. Ora per ritornare in home.leo, piuttosto che fare cd, w, w e varie volte, posso semplicemente fare popd e sono ritornato nella directory precedente. Quindi lui è come se avesse una stack interna in cui mette in cima, diciamo, la nuova path, anzi in cima della stack mette l'ultima path in cui mi trovavo prima di aver seguito il comando pushd e quando faccio popd lui va a poppare la stack, quindi si prende il primo elemento della stack, quella in cima, e lo mette come nuova directory. E quindi questo è molto molto comodo se vogliamo traversare il nostro file system in modo efficiente, perché io posso fare un pushd per esempio in tmp, poi posso fare un pushd in pom, in un'altra directory, che ne so. Dopodiché se io voglio ritornare a quella di prima faccio un popd e ritorno subito in tmp senza fare cd slash tmp, poi se voglio ritornare nuovamente a quella di prima un altro popd e ritorno nella mia home directory. Quindi questo meccanismo è super super comodo e consiglio di utilizzarlo. Quindi io che faccio? Faccio un push, entro in push nella mia data dir, poi vabbè qua faccio il redirect dell'output perché quando noi facciamo un pushd lui semplicemente mi stampa queste informazioni che non mi interessano. E poi abbiamo la funzione recursive iterate, poi quando finisco da questa diciamo funzione faccio un popd per ritornare al luogo in cui mi trovavo prima. Questo diciamo è il setup. Ora che cosa fa questa recursive iterate? La funzione recursive iterate fa essenzialmente una visita del file system, fa una visita in profondità del file system in questo modo. Quindi lui utilizza la wildcard expansion per fare for f in tutti i file della cartella corrente. Lui si itera tutti i file della cartella corrente e verifica. Se il file, cioè se l'oggetto che io sto analizzando è effettivamente un file con questo diciamo trattino f e il file è html, cioè gli ultimi 5 caratteri sono appunto html, allora lui estrae tutti gli url da questo file e qui gli passo come argomento il file, la lista dei full urls, quindi il luogo in cui lui deve inserire per ogni url la coppia url filename e poi la path al partial url files in cui lui deve inserire solamente gli url e basta. Altrimenti se io sto considerando una directory ci entro col cd e ricorsivamente chiamo la funzione recursive iterate e poi una volta che ho finito torno indietro. Quindi questo serve per essenzialmente qual è il comportamento di questo. Il comportamento di questo è che se io per esempio sto in una cartella, per esempio appunto ppa, io inizialmente mi vado a scannerizzare tutti i file presenti nella cartella, dopodiché se è un file mi fermo, se invece sto analizzando un folder, cioè una directory, allora che faccio entro nella directory, mi scannerizzo tutti i file a sua volta di questa directory e continuo in modo ricorsivo fino a che non trovo le directory folie del file system, cioè le directory che contengono solamente file, a quel punto mi fermo e torno indietro e vado ad analizzare il prossimo file. Quindi questo è il codice per fare questa esplorazione in profondità del mio file system e per estrarre tutti gli url partire dalla root directory, perché io parto da questa root e mi estrago tutti i file. Cioè volendo proprio fare un esempio magari anche divento pure pesante, però l'idea è questa appunto. Io inizio da qui, quindi alla prima iterazione lui che ne so, prima ovviamente lui l'ordine in cui esplori i file non lo posso sapere a priori perché dipende tipo da, diciamo, dalle cose lessicrografiche mi sembra. Quindi vabbè, supponiamo che lui parti da quest'ordine, quindi la primo file che si analizza è questo blog. Dato che una cartella, lui chiama la funzione, lui fa prima un cd blog, che è questo qui, cd blog, poi chiama di nuovo la funzione recursive iterate, quindi si esplora nuovamente tutti questi file, perché fa nuovamente questo orf in wildcard expansion, quindi tutti i file. A questo punto per ogni file lui becca il caso che è un file, in realtà non becca questo perché qui non sto solo chiedendo che è un file, ma anche che sia un file html, quindi lui in realtà non becca niente, lui questo quindi non fa niente. Una volta che ha finito la, diciamo, esecuzione ricorsiva, esce da questa chiamata ricorsiva e fa il cd di due punti, quindi ritorna indietro. Adesso si analizza il prossimo elemento, che è un changes, che è un file, non è un html quindi non fa niente. Poi analizza il code, quindi entra di nuovo in code, si analizza tutti i file in code in modo ricorsivo e via dicendo. Per esempio, quando arriva a questo index.html, però lui che fa? Chiama questa funzione extract all urls. Questo lo fa appunto per estrarre tutti gli urls. Ora, che cosa fa la funzione extract all urls? La funzione, questa funzione si definisce prima tre variabili locali. Mi sembra che la keyword local è necessaria per avere che le variabili hanno uno scope della funzione, all'interno della funzione. E poi lì utilizza il binario pappa, quindi qui utilizzo pappa, per estrarle da il file html, perché ricordiamo, in file rappresenta il file html da cui vogliamo estrarre tutti i link. Full out file rappresenta la patta del file in cui vogliamo avere l'associazione tra link e filename. Quindi questo è il link e questo è il filename. Mentre partial out file rappresenta il file in cui vogliamo avere solamente i link una volta sola. E lui che fa? Quindi chiama il comando pappa. Questo comando genera tutti i link presenti nel file e li manda, li fa il redirect di questi comandi a questo while. Quindi questo while esegue per ogni url trovato da pappa e ad ogni iterazione in questa variabile url è proprio presente l'url. L'url è presente nel file. Quindi se noi lo vogliamo provare, supponiamo, per esempio, andiamo a prendere un video, un link di html, htbox, quello di poison, per esempio. Allora io chiamo bin pappa, questa è la patta di pappa. E poi mi copio questa stringa che definisce il comando particolare che voglio fare eseguire a pappa. E poi mando in input, per esempio, questo poisonlog.html. Lui mi genera essenzialmente tutti i file, tutti i link presenti in questo comando. Alcuni ovviamente sono link che però fanno riferimento alla stessa pagina, in questi casi io questi non li considero. Quindi per ogni, diciamo, riga ritornata dall'output di pappa, io che faccio controllo, ho due casi fondamentalmente. Uno è un caso di un local link e uno è un caso di un absolute link. Nel caso del local link io ho praticamente che lui, come lo gestisce il local link? Il local link lo gestisce in questo modo, stampa due cose in due file diversi. Nel partial out file, che è il file in cui voglio avere solamente il link, lui, diciamo, concatena la root url all'url. Perché dato che è un local link, vuol dire che questo lo sto io e quindi devo prima metterci questo HTTPS Leonardo Damiano.xyz. E quindi questo è quello che fa in questa riga di codice. Mentre nel full out file io voglio avere link, ma anche file name. E quindi io che cosa ho? Ho prima la cosa di prima. E poi però ci metto uno spazio e metto questo, la, vabbè, print working directory in cui mi trovo attualmente. E il lin file, cioè il file che sto analizzando. Dato che comunque questa directory, io mi trovavo qui, quindi è corretta. Questo va bene, quindi questo mi stampa effettivamente la path del file che contiene questo link. Questo nel caso appunto in cui è un local link. Nel caso in cui è un absolute link, e qui lo faccio con questo HTTPS. Allora in questo caso non devo aggiungere questa root, perché vuol dire che sto puntando a un'altra risorsa, una risorsa esterna da me. E quindi faccio la stessa cosa di prima, ma al posto di questo root url ci metto questo. Altrimenti, se non metcio queste due regole, non faccio nulla. Ora, per esempio, qui sto notando che effettivamente controllo solo per HTTPS e non per HTTP. Infatti quando io ho fatto questo comando pappa di prima, nel file poisonlog.html, lui mi è ritornato fuori questo link, che in realtà non funziona. Perché questo link in realtà vale solamente all'interno della network HTTPS quando tu metti come, diciamo, nell'etc host come poison l'indirizzo di poison. Perché questo link chiaramente non porta da nessuna parte, ma diciamo che io tendenzialmente non metto quasi mai link HTTP, quindi è raro che, anzi io li metto appunto solamente, in realtà no, qui ho pure altri due link, HTTP e HTTP. Quindi questo ovviamente in realtà lo dovrò sistemare e dovrò mettere anche il supporto per controllare i siti HTTP effettivamente. Ora ho aggiunto questa cloud sulla questor, che mi gestisce anche il caso HTTP, l'ho fatto rinannare e mi ha trovato un altro, che non me ne ero accorto, questo è molto importante ovviamente. che prende questa lezione e il link di interesse era questo pomino, che non funziona più, si vede, perfetto. Quindi questo è stato molto molto utile, ok. Mentre questo qui, vabbè, ovviamente se uno esce fuori un link che chiaramente va bene, che non funziona, uno lo toglie e via dicendo. Per il resto gli altri sono utili. Quindi ho aggiunto questo or, quindi nel caso di un link assoluto appunto lui stampa semplicemente l'url nel partial. E nel full sempre url, ma non prepende questo, non concatena all'inizio questo root url. Altrimenti se non matcha queste due regole è una no op, cioè non fa niente. E quindi questo è quello per estrarre. Ora, una volta che lui è estratto, quindi lui li estrae per ogni cartella, fa questo lavoro. Dopodiché ritorna nella generate urls file. Ora qui fa un pop, quindi ritorno al luogo di prima, ma perché da questo punto in poi non mi interessa più la directory in cui sto, in quanto lavorerò solamente basandomi sui file in slash tmp. Ora qui faccio un primo sorting. Questo sorting lo faccio nei files partial, perché? Perché inizialmente nei files partial, io come ho detto, alla fine nei files partial voglio che per ogni link diverso c'è una sola riga. Ma inizialmente io semplicemente stampo tutti i link singoli all'interno del partial. E solamente in questo step di sorting li ordino rispetto al byte level. Quindi ho un byte wise sorting, quindi questo vuol dire che ciascun byte dei vari url viene confrontato e si ordinano in modo byte level. E questo lo faccio andando a forzare il locale c. Faccio lc allc e questo mi forza un sorting byte wise. Dopodiché faccio la slash u che mi sembra per unique, cioè vuol dire che lui sorta e unisce le parti comuni, cioè le righe uguali le accorpa in una sola, le raggruppa. Qua metto il file che voglio sortare e qua metto l'output che è lo stesso file. Quindi alla fine di questa chiamata io essenzialmente avrò un file che è il partial. In questo modo, cioè per ogni singolo url avrò una riga, per ogni diverso url avrò una riga e saranno ordinate queste righe. Quindi si parte con la b, poi la c, poi la d e via dicendo. In realtà si parte con la a ma non ho nessun link con la a. Ora mentre registravo ho notato che in realtà un pezzo di codice che era sotto il sort lo avevo scritto da un'altra parte e quindi questo sotto il sort era inutile. Quindi non serve. Quindi in realtà il generate urls file finisce dopo il sort. Quindi diciamo spiegando nuovamente veloce che fa. Prima vabbè elimina i file precedenti dalla run precedente, poi fa un pushd per entrare nella directory data dir, fa un recursive iterate che praticamente estrae ogni file html in modo ricorsivo da diciamo dalla root dir e estrae tutti gli url da ogni file html e poi semplicemente faccio il sorting del partial urls file. E quindi questa è il generate la prima funzione. La seconda che è il generate broken urls files che è effettivamente quello che io voglio, cioè diciamo gli url che non funzionano più. Che cosa fa? Bene, nuovamente fa un rm del file, questo f è semplicemente per forzare il removal e per non far stampare il messaggino tipo che il file è già presente. E poi chiama la funzione check for broken urls, il che gli do due variabili, il primo è il partial file, il secondo è il broken urls file. E quindi questo termina l'esecuzione della prima funzione principale che chiama il main. La seconda invece che è quella di nostro interesse perché è quella che andrà poi a generare il file broken urls.t. Che cosa fa? Bene, la seconda come al solito abbiamo un removal del broken urls file, quindi lui rimuove il file generato dalla run precedente. E poi chiama la funzione check for broken urls con tre argomenti che è il full urls file, il partial e il broken. In realtà il broken è soltanto il path name fondamentalmente perché è un file che ancora è vuoto adesso che l'abbiamo già eliminato. Quindi lui si definisce come variabili locali, full, partial ed air file, 1, 2, 3. Dopodiché lui che fa? Lui si legge il partial file, quindi si legge il file con i singoli urls, questo è. Quindi si legge per ogni singolo url, quindi questo while interno serve proprio a fare questo. Qua a questo punto url è il singolo url, chiama il binario xml starlet, xml, con la flag unesc proprio per andare a togliere tutti questi caratteri. E essenzialmente questo che fa? Allora se io ho il full LAN port, tipo in questo caso questo url, come è possibile notare che cosa ha? Ora lo sposto qui perché se no non si vede bene. Se io vado a copiarmi questo url, qui c'è questo codice, questo codice che io che posso fare? Posso fare xml unesc e poi faccio semplicemente, anzi faccio così, cat, anzi faccio un eco di questo. E poi lo do in input a xml unesc e lui mi, essenzialmente mi fa l'unescape di tutti questi html character codes, tipo questo, nel carattere diciamo che poi posso utilizzare per fare la chiamata effettiva. Quindi io faccio questo, faccio un escape url con il binario xml starlet e l'opzione unesc. Dopodiché chiamo curl, chiamo curl con output che lo mandi in dev null perché non mi interessa, silent e con una richiesta add. E diciamo la flag fail non so esattamente che fa ma penso che la flag fail intuitivamente posso pensare che viene indicata per dire a curl che se lui fallisce deve settare la, diciamo, come deve ritornare un valore di errore, se vogliamo. E lui infatti in questo caso quando fallisce ritorna un valore che è diverso da 0, mentre quando fa tutto bene ritorna un valore esattamente 0, infatti entriamo nell'else. Nell'else vuol dire che il file non esiste, quindi in questo caso abbiamo url not found. Ora ovviamente qui non è proprio sempre 100% perché magari il server a cui stiamo interagendo non permette chiamate add, cioè non permette richieste di tipo add. Quindi non è proprio 100% però è un buon filtro possiamo dire, è un buon filtro perché io una volta che ho il broken, semplicemente mi controllo da mano tutti questi qua, vado a fare la richiesta. Se non c'è lo fixo, se c'è dico vabbè sti cavoli. Dopodiché quando la richiesta invece fallisce, cioè quando curl non mi dà nessun tipo di risposta e mi dice guarda non riesco a trovare quella risorsa, ora magari appunto c'è ma sti cavoli, supponiamo quindi che non ci sia. Io voglio segnarmelo questo, come faccio? Allora prima faccio un echo dell'url nell'air file e questo mi stampa essenzialmente questi url all'inizio. Poi però oltre a questo io voglio avere ogni stanza, ogni file in cui quell'url è presente e stampato successivamente con un po' di spazio per capire, per fare la differenza. Ora come faccio a fare questo? Utilizzo apparentemente sed, una combinazione tra sed e grep. In che modo? Prima faccio l'escape dell'url. Questo perché lo faccio? Perché io poi vorrò greppare all'interno del file full list urls, vorrò greppare per i vari urls. Cioè io voglio greppare per esempio per questo, ovvero che voglio ritornarmi tutte le righe di questo file che hanno questo url, quindi in questo caso sarebbe questa qui, questa, questa, questa e quest'altra. Ora però come faccio a greppare questo file? Voglio utilizzare una regular expression, che sarebbe questa regular expression, in cui ho questo carattere per dire, guarda all'inizio deve iniziare la stringa con o, diciamo, l'inizio della stringa a uno spazio, Poi deve avere l'url, l'url escaped però, e poi dovrà avere o uno spazio o spazio e fine riga. Quindi diciamo, l'idea appunto è che io, perché faccio questo? Faccio questo perché si potrebbero avere dell'url della forma del tipo, ho un url tipo http prova, e poi un altro url, anzi questo lo faccio nello scratch che si vede meglio, Io potrei avere un url del tipo http prova, e poi un altro del tipo http prova.com qualcosa, tipo, che so, questo punto, anzi fammo prova slash, anzi prova punto 2 punto com, che ne so io, In cui per esempio uno è un prefisso dell'altro, cioè io voglio evitare i casi in cui uno è un prefisso dell'altro, cioè io che voglio fare? Voglio fare che il mio url è preso come singola entità atomica e non come prefisso di altri url un po' più lunghi, che però iniziano con lo stesso modo. E come faccio? Dico, ok tu mi inizi, in realtà questo spazio è inutile, potrebbe benissimo essere così, anzi così sarebbe più giusto per dire. Tu mi inizi dall'inizio della riga, perché tanto nel full è l'http, è l'url che inizia la riga, poi mi matchi l'url, come string in realtà, e poi hai uno spazio oppure uno spazio e la fine riga. E quindi questo mi permette di fare questa roba, ora però il problema è questo, il problema è che l'url può contenere dei caratteri che sono speciali per le regular expression, cioè può contenere dei caratteri significativi. Io questo non lo voglio, perché io voglio matchare l'url come una stringa, se vogliamo, sintattica, cioè come letterale, letteralmente voglio l'url e basta. Mentre per esempio il punto, in regex se non sbaglio il punto sta per qualsiasi carattere, cose del genere. Quindi come faccio ad ottenere questo behavior? Bene, utilizzo questo comando sed, che ho fatto vedere prima, che ho preso da una risposta di stackoverflow che il link è in descrizione. Ora, come funziona questo comando sed? Ora, andiamo ad entrare quindi più in dettaglio questo sed. Quindi questo è il comando che avevo nel mio script e ora andremo a vedere in dettaglio. Ora, questo sed fa essenzialmente due cose, infatti abbiamo un sed, il comando è diviso punto e virgola e poi c'è un'altra parte, quindi questa prima parte e poi quest'altra parte. Ora, analizziamo la prima parte. Questo comando di sed, la prima parte, ci sta dicendo di sostituire il qualsiasi carattere, quindi questo match ha qualsiasi carattere, con il carattere coperto, wrappato da delle quadre. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se io gli do, per esempio, in input la stringa S1, questi tre, diciamo, freccette saranno per dire, dai, al comando sed, in input la stringa S1, se io gli do questa stringa, lui essenzialmente che cosa farà? Io eseguo my test e lui mi darà la stringa, diciamo, apri, quadra, A chiudi quadra, apri quadra, B chiudi quadra. Essenzialmente lui prende ogni carattere e lo wrappa in quadre, anche una quadra volendo, esatto. Infatti qui c'è apri, poi c'è una quadra e poi la chiude. Ora, perché fa questo? Questa è una, diciamo, un po' una generata, perché essenzialmente lui che fa? Piuttosto che fare l'escaping di caratteri regex specifici, lui utilizza il fatto che la quadra significa matchami uno o più caratteri all'interno della regex. Quindi che vuol dire? Se io ho, per esempio, una, all'interno di una regex, ho tipo quadra AB, poi quadra BC, questa regex può matchare come primo carattere un carattere tra A e B, quindi A, è come secondo un carattere tra B e C, quindi può matchare AB, ma può matchare anche BC, ma può matchare anche AC, tutte le combinazioni, quindi BB, quindi tutte queste quattro combinazioni. Ora però, se io nella quadra metto un singolo carattere, lui può matchare solamente quel singolo carattere letterale, quindi AB, quindi questo matcha solamente AB. Quindi questo è molto geniale, perché all'interno della quadra, l'unico carattere da fare l'escaping è il caret, perché il caret all'interno della quadra significa all'inizio della riga, se non sbaglio, non me lo ricordo, oppure è un not, non lo so, diciamo, dovrei vedere. Però l'idea è che all'interno della quadra, l'unico carattere speciale che deve essere fatto l'escaping è proprio il caret. E lui, infatti, che fa? Prima sostituisce ogni carattere all'interno della quadra, e poi sostituisce il caret con slash caret. Quindi, diciamo, di prima fa essenzialmente questo ABC, lo trasforma in quadra A, quadra B, quadra C, per matchare letteralmente la stringa ABC, poi però, dato che se io nella mia stringa ho un caret, quello che succede è essenzialmente che avrei un... Se io ho un caret, lui non lo sostituisce con... Ok, durante la registrazione in realtà ho capito che cosa fa il caret all'interno di una quadra, che infatti me l'avevo dimenticato. Il quadret all'interno di una quadra ti dice, matchami tutti i caratteri tranne questo. Cioè, vuol dire che, per esempio, in questa quadra ci possono essere tutti i caratteri tranne il simbolo A. E infatti, se io essenzialmente ho questo tipo di cosa, e lo applico alla stringa ABC, lui che cosa mi fa? Mi fa il match di A... Il match... A non me lo matcha, ma solo di B e di C, quindi mi sostituisce tutti tranne A con quadra... Con vrappati da quadre, fondamentalmente. Quindi, se io faccio caret caret, sto dicendo matchami tutti i caratteri tranne il caret. E quindi, se io ho un caret qui, lui mi prende tutti i caratteri ma non mi vrappa il caret. E quindi, per gestirmi il caret c'è il secondo caso, che è questo, che non fa altro che prendere il caret, che sarebbe, diciamo, questo, che nuovamente lui deve fare l'escaping perché il caret è speciale, quindi lui fa slash caret, e lo sostituisce con un slash slash caret, per dire un caret letterale. In realtà qua fa l'escape dello slash, per dire mettimi uno slash e poi un caret. E non so se si è capito, però l'idea appunto è che se io ho un caret, poi alla fine la sostituzione, che è la cosa importante da capire, è slash caret. Quindi la stringa finale, essenzialmente, che sarebbe abc, diciamo, qual è la stringa finale? La stringa finale in questo caso è se io ho s1, parto da s1. A questo punto io che do? Do in input escaped s1 e stampo escaped s2. Quindi alla fine, escaped s1, quindi alla fine, ok, vediamo un po'. Quindi alla fine ho questo. Ho che tutti i caratteri diversi da caret sono diventati, sono vrappati da quadri, e il caret è l'unico che viene slashato. E quindi questo più o meno conclude lo script, perché una volta che ho fatto questo escaping speciale, poi mi faccio il grep, e quindi lui che mi ritorna? Lui mi ritornerà una serie di righe, di linee, ciascuno delle quali alla forma del tipo, praticamente, che abbiamo, abbiamo l'url, qui lo ho capito male, perché sarebbe tipo questo, per esempio questo è un esempio, della forma url, poi spazio, ora qui non si vede perché è abbastanza grande, ma c'è qua uno spazio e poi il file. Dopodiché io faccio con questa sintassi, string array, che metto queste tonde, essenzialmente un array in cui posso indicizzare il primo elemento, il primo che sarebbe indice 0, e il secondo che sarebbe indice 1, e quindi poi faccio un echo, metto un po' di spazio, e stampo il file name in cui quel link è presente. Prima stampo il link, come ho detto prima, e poi mi stampo una alla volta, per tutti i match che ho avuto nel full file, mi stampo sempre nell'air file, spazio e il, diciamo, la seconda colonna del matching, che sarebbe il file name in cui quell'url era presente. Quindi il risultato di questo è proprio questo broken rules file, in cui ho link rotto, poi ho una serie di spazi e url, e quindi questo lo faccio sempre a partire dal full, cioè per fare proprio un esempio, no? Supponiamo, ora, supponiamo che io ho il mio broken, in cui ho questo particolare coso. Quindi lui che fa nello script? Lui praticamente greppa, quindi ora farò così, non si, questo me lo segno qui, qui apro il terminale, quindi ho il mio terminale. Io devo andare a greppare in tmp, quindi andiamo in tmp, io che faccio prima? Faccio quel sed che abbiamo visto prima. E il sed praticamente era questo. Quindi faccio il sed, e me lo metto in una variabile. Anzi, utilizziamo lo script my test, perché era molto più comodo, chiaramente, piuttosto che utilizzare proprio la scelvere propria, che altrimenti non si capisce niente. Quindi io ho questo qui, url lo metterò come questa roba qui, e se io faccio echo url escaped, lui ovviamente mi esegue, che cosa, my test. Questo è il url escaped, ora questo url matcha solamente, appunto, il url letterale. Dopodiché io utilizzerò questo url, come nel broken, con questo comando grepp, con questo grepp, chiamerò grepp, e utilizzerò questo url escaped, all'inizio della riga, quindi lui deve matchare, che la riga deve partire con l'url escaped, poi ci deve essere un, diciamo, o uno spazio, o uno spazio e fine riga, e il grepp lo faccio a partire dal file tmp, full list urls, e se io faccio questo, lui mi ritorna solamente la riga, diciamo di, solamente la riga di interesse, che è una sola, perché tipicamente alla fine è raro, che trovo lo stesso url, che non funziona sul più file, però vabbè, in generale io che faccio io, mi prendo il risultato di questo, e per ogni riga ritornata, perché lui adesso magari mi ha inviato una sola riga, però magari lui mi poteva inviare più righe, tipo poteva inviarmi questa, poi un'altra in un altro file, tipo che so, valentine, quindi lui poteva fare varie cose, e io per ogni riga, mi prendevo il secondo coso, e lo mettevo nell'air file, nel broken, in questo qui, e quindi questo conclude più o meno la spiegazione dello script, spero sia stata abbastanza chiara, e alla fine quindi come funziona, semplicemente io la prossima volta che dovrò controllare, se qualcosa si è rotto, che so, da qualsiasi punto di amm shell, faccio broken urls, cioè faccio partire lo script, ora non so se l'avevo modificato, no non l'ho modificato, e lui dopo un po' di tempo, su internet ci mette 2-3 minuti, perché comunque deve fare delle richieste, e i file, comunque gli url sono un pochino, lui dopo 2 minuti, mi genera questa lista di broken urls, che poi posso controllare manualmente, per vedere, ok, quali di questi sono effettivamente rotti, quali invece no, e via dicendo, quindi questo è molto molto comodo, più che altro anche nel futuro, cioè, una volta che tu hai scritto questo script, una volta che tu più o meno, hai le dipendenze e via dicendo, è molto molto più comodo in questo modo, piuttosto che manualmente, andarsi a vedere ogni singolo file, oppure farsi dire da altri, guarda questo link non funziona, e niente, spero sia stato interessante, e al prossimo video.